Ehi, la ciurma! Io sono Mezzestress e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons. Allora, beginniamo un vero... 13 minuti? Ma sono sempre più corti. Forse perché è proprio il minimo indispensabile per portarci prima dell'antipapa. O si stava organizzando di conseguenza. Allora, in questo non pucchieremo l'antipapa, ma nel prossimo di sicuro... Ah, c'è qualcosa che non gli piace. Ci dice. Nel dubbio noi picchiamo. Nel dubbio noi picchiamo. Cos'è crollato? Crollata la roba. Ah, ho visto solo adesso l'animazione del cosino quando... Ci dà della cura. Allora, quello è andato. Ciao, grazie. Oh, ci sono di voi, tizi. Qua di MacGyver, come si chiama lui. Che ci picchiano con cattiveria e con tutti gli elementi della terra. Allora, tu raccogli tutto, non passiamo. Ma così proprio? Così? Ma vi pare... Cos'è sta mucchiata, st'idea, diciamo, una mucchiata di veleni mistici tutti insieme? Dammi della bevanda intanto, nel dubbio. Che qua c'erano tutti con me. Dice, let's be cautious, ma qua... Cosa? Come? Via! Ma cos'è tutta sta gente? Cos'è tutto... Sto ballismo qua? Questa ballistica? Ci calmiamo un attimo? Ah, io... Che è questo? Ma è fortuna che mi ero tenuto la portata di mano di quella cuorina, perché sono... Wei, 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 allora... Ci diamo un tonno o cosa? Intanto, questi non sono neanche quelli che fanno un... Cioè, che fanno un colpo e li tiri giù. Questi sono quelli... Super mega power che ti tirano giù tutte le... Guarda, quanta vita c'hanno! Ma vi pare il caso? Wei, 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 calmini, calmini, calmini... Ma... Oh, se ti ho detto calmati... Calmati un attimo, poi il gelo che genera il ghiaccio, quando si capisce più niente... Allora, vai! Questi sono già le scalpe sotto? Ma fichissimo, no, ma intanto non ne prendiamo. Allora, perché ci manca una cesta che abbiamo visto e due robe undiscoverate. Mi sa che dobbiamo andare in quella direzione là... Che è l'unica che noi abbiamo ancora intrapreso. Ma... Eh? Scusami? Dov'è tutto il resto? Ah no, ok. Mi ero dimenticato questo percorso, va bene. Te pareva, te pareva, te pareva... No, questo ce l'ho ottenuto dai piedi, ma che... Aia! Ma pure quell'altro! Diamine! Oh, la peggiore delle ceste che io abbia mai visto, probabilmente. Allora... Tira giù questo... Eppure... Ci si mettono pure quegli altri a picchiare così a caldo. Ma no! Allora, fatemi andarvi per piacere... Pure! 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 Che Kaiser! Mi sembrava di aver finito il livello, invece c'è una. Oh, io tirerei giù prima questi... Ok, qua c'è da bere, c'è da bere, almeno c'è da bere, c'è da bere, c'è da bere, c'è da bere. Tira giù questi, tira giù questi, tira giù questi e bevi. Tira giù questi e bevi. Eh sì, ciòone. Ciò, facciamo sopravvivere. Speriamo. Oh, con le immune, va bene. Allora... Pure! Senti, mi sa che una cuorina male non ci sta. Ah, non le uso quasi mai, ma avevo un niente di vita. Senti, crepaci male per piacere. Sì, era un formidable foe davvero, porca miseria. E ti pareva che non c'è qualcuno là a caso che ci lancia delle frecciate? Anche guarda che qua mi avevano proprio bloccato, non riuscivo a uscire, non sapevo che cosa cavolo fare. La pozione già l'avevo bevuta e quindi... Blessed be the hour. Sì, ok, ma c'è solo una cosa della luna, non c'è solo una roba. E qua? Cos'è tutta sta roba? Cos'è tutta sta roba? Porca miseria! via 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 più forte questo che spara le frecce dopo che vietta porca miseria ok abbiamo detto un'altra roba incognita ok abbiamo recuperato la pozza e te pareva e bevi tapposca, cosa cosa manca? Ma la scroll è 124 di gold Che sono giù sotto Sbrilloci che è in giù Quindi dovrebbero essere entrambi Ah ok Ah quando ho tirato giù quel tizio cattivo Posso cliccare sulle scale per scendere immediatamente E noi scendiamo immediatamente Che andiamo ad affrontare l'ultimo pezzetto Prima del nostro antipapa Che sarà l'ultimo pezzetto Prima dei pezzetti Allora No Picchiamo prima questo che Fa un male cane Allora Vado Ho mancato qualcosa qua C'è un boss Quello mi auguro Non un giallati Ci può passare Ok lo vedo Vabbè Ho tirato giù quel affare Ma che male Ancora Cosa mi è storto? No niente Per ora Porca miseria Porca miseria Ho dovuto usare di una pozza Oh mi stavo facendo un danno incredibile Non so se avete visto come è scesa la vita Crepaci 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 E niente Ma come? Ancora? Ancora? Allora E a metà Qua ho bloccato lo stun Ma mi ha fatto comunque un pacco di Mi ha bloccato un sacco di roba Ottimo 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 Si è stunnato lui Mangia il danno E niente No Spero che sia l'ultima a sua vita Perché guarda Oh Ok ho potuto Disattivare la sua carica Benissimo Mareu Che fatica Oh mi è ridotto la pozzietta Però Se non ho Uff È stato impegnativo A dire poco Chi so come sarà L'Arcivildemone L'Arcipapa L'Antipapa Quel che è insomma Se questa era Giusta questa Miseria di combattimento Oh Ci sarà da soffrire Non poco Mi sa Come ho visto la libreria Ma non ho preso il Ah è là sotto la libreria Ecco perché Tutti questi insieme Ma voi siete scemi Guarda Poteva andare molto peggio Ma cos'è Un mitragliatore Senti a me Oh c'è la libreria Poi dovremmo essere Alla fine del livello Cos'è questo Ti protegge Da tutti i danni Fichissimo Ed è un consumabile Da quello che Era come colore Cioè dovrebbe essere Sì un consumabile Perché non era blu E non era verde Sì manco un sarcofago Dove ho lasciato Il sarcofago Ah qua Mi stavano picchiando Gli altri Ok non c'è più niente Vada scendiamo sotto Scendiamo sotto E cos'è che abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato L'arrivo dall'antipapa Sì ok Non è che siano saliti tantissimo Ma sono curioso di vedere se Allora vediamo un attimo Identify magic card Sì Identify magic card Questa Vada che cos'è Una bomba glaciale Sì ok Non mi interessa al momento Ma voglio vedere un attimo Nel Ma il rank Come vedo il rank invece Scusatemi No questo è per l'avatar Ma il rank The awards Next rank Boh 25.000 punti Saremo Next rank Boh Non è qua Nell'informazione Magari No queste sono tutte le Stat ma Boh Non lo so Siamo a livello Tre come Personaggio Ma cosa che dice Fake entries on this list Cosa 14 entrette false Fake entries Che cos'è Quali sono quelle fake Tra l'altro Questo è tipo Chance to fall While walking Stairs Si penso che sia finita Questa Town visited Una E cosa vuol dire C'è una sola città Ho una reputazione I clan dei nordici Che cavolo dice Ok ci sono sacco di stupideci Che non abbiamo mai guardato Va bene Ok 14 Vabbè Detto questo Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi Per cosa non è stato già fatto E lasciare un commento Per dirmi cosa ne avete pensato Di questo episodio Ciao a tutti E una buona giornata Ciao a tutti